La mia passione per la tessitura è cominciata oramai 40 anni fa dopo un viaggio in Messico. Sono stata un mese e mezzo in Messico per un viaggio di piacere, ho vissuto insieme alle persone del posto per un mese e insieme a loro vicino a queste donne praticamente ho appreso i primi rudimenti della tessitura. In Messico usano i telai a tensione tipo questo alle mie spalle, sono due pezzi di legno praticamente legati in vita attaccati a un albero e con quelli fanno dei lavori incredibili, veramente spettacolari. Quindi una volta rientrata dal Messico sono rimasta talmente impressionata, uno dal loro modo di vivere e due dalle loro attività che riescono a svolgere con la tessitura, per cui ho detto proviamo. Ho preso un manico di scopa, l'ho diviso a metà, l'ho attaccato all'albero in vita e da lì ho cominciato i primi esperimenti di intrecci, quindi ordito, trama, coi colori, a fare esperimenti il più possibile. Poi evidentemente nella mia vita c'era l'attività della tessitura, perché una volta rientrata in Italia, avrebbe varie vicissitudini della mia vita, sono andata a vivere a Cortona e lì ho incontrato una signora di Torino che faceva sfilate a Torino con tessuti fatti a telaio e con il visone, quindi delle cose veramente particolari dove bisognava utilizzare dei telai grandi, telai a più licci, quindi telai che io fino allora non avevo ancora avuto l'opportunità di provare. Sono stata due anni lì da lei e quindi ho appreso queste altre tecniche. Poi la vita mi ha portato in Umbria, sono venuta a Castiglion del Lago e infine a Paciano, dove a Paciano praticamente ho trovato il punto di partenza per la mia attività. Nel frattempo, siccome ho avuto quattro figli, insomma ero riuscita a liberarmi da quelle che erano le attività familiari e sono andata a parlare con il comune e loro mi hanno immediatamente aiutato e agevolato nell'aprire un laboratorio dove poter mettere il mio telaio e cominciare la mia attività. E sono andata avanti così, ho aperto un piccolo laboratorio per due o tre anni. Infine c'è stata questa ennesima opportunità meravigliosa che è stata l'apertura di Trasimemo. Trasimemo avevano bisogno appunto degli artigiani che si mettessero a disposizione per poter tramandare quelli che sono i saperi culturali della zona e mi hanno messo a disposizione una stanza completa. Questo laboratorio all'inizio io ho subito dato la mia disponibilità perché una delle cose a cui tengo di più nella mia attività oltre alla produzione è quella proprio di divulgare la conoscenza della tessitura. Quindi lì mi dava l'opportunità di essere aperta a un pubblico più vasto e le persone cominciavano a venire, a interessarsi, a chiedere e così siamo partiti con i primi rudimenti di tessitura. Non avevamo assolutamente nulla all'interno del laboratorio quindi siamo partiti con pochi fili rimediati o da donazioni o cose che avevo io e delle scatole di cartone sulle quali io montavo i fili per fare l'ordito e così cominciavano a imparare a tessere. La tessitura, a differenza degli altri lavori artigianali legati al femminile diciamo la maglia, l'uncinetto eccetera, è stata dimenticata mentre nei primi del Novecento in tutte le case contadine c'era un telaio perché si facevano, oltre i corredi, le lenzuola cioè tutto ciò che poteva occorrere per la casa poi via via, abbandonando le case coloniche dove il telaio aveva la sua sede perché erano piuttosto impegnativi la tessitura è andata a perdersi. Ora con il modernariato riusciamo ad avere dei telai come questi per esempio che sono praticissimi, io ho i chiodi in casa dove ho tutti i telai appesi e diventano praticamente uno strumento da poter utilizzare anche nelle piccole case e negli appartamenti di oggi quindi adesso il mio scopo è quello di rinsegnare i rudimenti della tessitura per poter dare la possibilità a chi è interessato a svilupparlo invece maggiormente. La cosa più bella è che quando la gente si avvicina e comincia la pazienza che ci vuole per la tessitura sono così complicati e invece vedere che praticamente ovviamente io li agevolo quindi la parte più complicata la monto io loro poi quando tessono hanno il risultato finale anche con i bambini è la stessa cosa si rendono conto di riuscire a impiegare il loro tempo e oltretutto trarre beneficio nel momento in cui tessano perché quello io spiego anche la tessitura come tutti i lavori artigianali è un arricchimento anche psicologico, personale oltre alla produzione perché ti aiuta, ti rilassa, ti distende libera la mente è proprio terapeutico io poi la soddisfazione maggiore nell'insegnare ce l'ho avuta perché avendo avuto quattro figli e una femmina la piccola praticamente da quando aveva 4-5 anni ha cominciato a tessere e adesso ha 23 anni e mi sostiene nel senso che oramai è diventata tessitrice anzi direi più di me perché io più divulgo l'insegnamento e lei più è pratica quindi insomma sono soddisfazioni e lei più di me